Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Praletspin Fishing e benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi facciamo un approfondimento sulle soft bait, sulle esche siliconiche, sulle esche in gomma, per un utilizzo specifico in mare. Nel dettaglio parliamo dei modelli principali da considerare nelle nostre battute di pesca e anche nelle tipologie di innesco che noi possiamo utilizzare. Inoltre facciamo un focus di attenzione sui recuperi da adottare durante l'azione di pesca. Questo è un video di approfondimento al nostro manuale, alle nostre guide che abbiamo dedicato sia allo spinning in mare ma anche nello specifico sulle esche siliconiche, sulle esche in gomma. Queste guide, questi manuali li trovate sullo shop Amazon disponibili sia in formato cartaceo che in formato elettronico, quindi ebook. L'acquisto di questi manuali è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. In questo video ho realizzato inoltre dei documenti a supporto degli argomenti di cui trattiamo per facilitarne la comprensione. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo! In questo specchio di riepilogo ci sono gli argomenti che tratteremo oggi. Partiamo con le tipologie e i modelli comunemente utilizzati e conosciuti per le specifiche destinazioni d'uso, quindi in mare. Parliamo inoltre degli inneschi. Inoltre nella parte finale di questo video parliamo delle principali tipologie di recupero da adottare nelle nostre azioni di pesca. Parliamo adesso delle principali tipologie dei modelli di esche artificiali soft bait da utilizzare in mare. Partiamo dai minnov, quindi le imitazioni del comune per scieforaggio, che a loro volta si suddividono in due modelli principali, i jerk e gli shad. La differenza sostanziale tra i due modelli che vi faccio vedere è principalmente che nel jerk noi abbiamo la classica codina dritta. Questa ci aiuta nelle operazioni di recupero, di jerkata. non vi preoccupate che poi nel dettaglio approfondiamo anche questo aspetto nel capitolo dedicato alle tipologie di recupero. La differenza sostanziale tra jerk invece è shad, che nello shad troviamo la codina a martello o detta anche comunemente codina paddle shad. Questa è la particolare caratteristica che contraddistingue queste due imitazioni di pesce foraggio di minno. Andando avanti, inoltre troviamo le anguilline, comunemente dette anche il, e anche in questo caso ci sono diverse tipologie, diverse forme, diversi modelli, diverse dimensioni che noi possiamo trovare delle anguilline, principalmente sono tutte le imitazioni che raffigurano un'anguillina o qualcosa del genere, una piccola guglia, e sono queste che vi mostro adesso. Infine possiamo trovare anche il classico bermone da bass, il worm, che possiamo considerare per la ricerca di prede particolari come ad esempio la spigola. Parliamo adesso di un capitolo molto importante, quello dedicato agli inneschi, anche in questo caso ne ho selezionato alcuni che sono quelli in base alle mie esperienze maggiormente utilizzati, ma è nell'inventiva, è nello studio, nella ricerca del pescatore o dei nuovi brand inventarne di nuovi in base a specifiche esigenze che possiamo avere nelle nostre situazioni di pesca. Partiamo adesso con le varie tipologie di innesco da utilizzare per le soft bait e partiamo dalla conoscenza di un amo molto particolare che è chiamato amo offset ed è questo dove è comprensiva una piccola strozzatura verso la parte della testa dell'amo. Con questa tipologia di ami noi possiamo innescare una grande varietà di soft bait e sull'amo possiamo aggiungere o meno del piombo, come in questo caso una spiralina in piombo, che possiamo aggiungere o direttamente sul lamo o in base a specifiche esigenze di pesca anche in testa alla nostra presentazione. Il metodo più comune di innescare le esche siliconiche è con la testina piombata, anche in questo caso esistono i vari modelli, esistono testine piombate a gambo dritto, come in questo caso, oppure testine piombate con amo offset, quindi a prescindere da quella che è la nostra situazione di pesca anche la tipologia di soft bait che noi vogliamo assemblare, montare sulla nostra jig head, ci va a definire il modello che noi dobbiamo preferire. Per esempio in questo caso c'è una piccola appendice proprio sulla testa della jig head che impedisce all'esca di venire fuori durante le fasi di lancio o magari durante la fase di recupero. Un altro metodo per appesantire, per dare maggior peso alla nostra imitazione di esca siliconica è aggiungere del peso in testa al nostro amo offset o al nostro amo. Possiamo aggiungere dei piombi, cioè burrasca, oppure possiamo utilizzare dei piombi con un anellino. In questo modo andremo a considerare il classico innesco pendolino. Questo tipo di innesco ci va a coprire delle situazioni di pesca che possono variare durante la nostra uscita e quindi facilmente possiamo aumentare o diminuire il peso sulla nostra presentazione per particolari esigenze di pesca. Aumento della corrente, aumento dell'onda, pesca nella risacca. In questo modo evitiamo di cambiare le testine piombate utilizzando unicamente la parte in testa al nostro pesciolino. Altro jig head da considerare sono quelle dove è prevista una sorta di vite direttamente saldata sulla testina piombata. In questo modo la nostra imitazione andrà proprio avvitata prima sulla su questa screw, su questa vite, su questa molla e poi innescata all'interno del lamo. Questa ci evita che la nostra presentazione e la nostra esca si deteriori durante il lancio o durante le fasi di recupero permettendoci una maggiore affidabilità ed è utilizzata per anche particolari tipologie di esca in gomma. Parliamo infine di una delle tipologie di sistemi pescanti più conosciuti dove è previsto la testina piombata che rappresenta e raffigura anche la forma della testa di un pesce e tramite un appendice saldata sulla testina piombata possiamo collegare il nostro amo offset che va internamente alla nostra imitazione in gomma. Questo è un sistema pescante molto conosciuto, molto in voga anche negli ultimi anni grazie all'avvento sul mercato di esca siliconiche come ad esempio il black minov. La particolarità di questa montatura, chiamiamola così, di questo innesco è che permette all'esca una grande mobilità non limitando quello che è il movimento, il nuoto realistico dell'esca, le vibrazioni emesse durante la fase di nuoto che rendono quest'esca maggiormente simile al pesce vero e quindi di conseguenza maggiormente efficace nei confronti dei predatori. Parliamo adesso anche delle tecniche di recupero con cui noi possiamo far muovere le nostre esche artificiali siliconiche. Ne ho identificate principalmente quattro ma è nella bravura e nell'inventiva del pescatore studiarne di nuove per rendere maggiormente efficaci le proprie battute di pesca per personalizzare l'azione di pesca e presentare al pesce predatore magari un pescetto che si muove più o meno veloce, un pescetto in difficoltà o un pescetto morente. Proprio in merito a questo aspetto è molto importante fare una premessa perché è davvero fondamentale utilizzare delle attrezzature specifiche, canne mulinello bilanciate, adeguate a quello che è anche il peso della nostra imitazione. C'è da utilizzare una canna molto sensibile. Che cos'è questa sensibilità? È la capacità di alcuni attrezzi di trasmettere al pescatore quello che succede all'altro capo della lenza. Quindi migliore sarà la nostra canna come performance, come capacità ecco di trasmissione delle vibrazioni, migliore sarà la risposta con cui noi potremmo far lavorare la nostra esca per renderla efficace agli occhi del del predatore. Parliamo adesso delle principali tecniche di recupero che noi possiamo adottare. Ne ho identificate principalmente quattro, quella lineare, quella bottom jump, quella cercata o twitchata e quello in verticale. Ora andiamo singolarmente a definirle ognuna. Parliamo del recupero lineare. Una volta lanciata la nostra risca artificiale in mare la facciamo affondare alla fascia d'acqua dove vogliamo far lavorare la nostra risca artificiale e poi iniziamo un recupero lineare. Sono ideali per questa tecnica le esche dotate di una buona coda, la coda martello, coda paddle shad, perché anche con un recupero lineare la trazione che questa esca e questa coda emetterà in acqua farà vibrare e muovere l'esca in modo efficace, quindi attrattiva verso i predatori. Possiamo aumentare o diminuire la velocità e l'esca la sentiremo tranquillamente in canna emettere delle vibrazioni. Parliamo adesso del recupero bottom jump. Bottom sta per fondo, quindi andremo con la nostra risca artificiale a far fare dei saltelli, quindi dei jump sul fondo. Quindi una volta lanciata la nostra risca artificiale aspettiamo che arrivi sul fondo e poi con la canna durante l'azione di recupero che può essere lenta intervalliamo con delle cercate verso l'alto. In questo modo l'esca farà dei balzelli sul fondale stimolando magari dei predatori, richiamando dei predatori che si trovano nelle zone vicine. La quantità e l'intensità delle nostre cercate verso l'alto ci darà dei continui balzelli più o meno ampi a seconda anche della nostra velocità e della nostra potenza. Non abbiate paura di sperimentare anche variazioni al tema, magari facendo sostare per qualche attimo, per qualche secondo l'esca artificiale sul fondo permettendo al predatore che si trova nei dintorni di avvicinarsi all'esca. In tante occasioni tra un balzello, tra un jump e l'altro, possiamo aspettare anche 2-3 secondi. Non di rato capita che lo strike arriva proprio nel momento in cui abbiamo fermato l'esca e siamo per ripartire, quindi sulla ripartenza molto spesso abbiamo lo strike anche aspettando 3-4 secondi tra un balzello e l'altro, soprattutto pesci di fondo in agguato come la spigola. Questo è un recupero classico ideale per questo predatore. Per quanto riguarda invece il recupero cercato o twitchato, sono ideali delle esche a coda dritta perché l'esca a coda martello paddle shad ci limita quello che è un po' l'azione zig zag, l'azione sinuosa che deve avere un pescetto in seguito in reazione alla nostra cercata. La differenza fra cercata e twitchata è che la cercata è un movimento più di polso, più netto, più preciso, più forte. La twitchata invece si fa leggermente alzando la canna e facendo lavorare la punta della canna, quindi oltre all'intensità c'è anche un movimento leggero differente tra cercata e twitchata. Comunque per queste tipologie di recupero vanno molto bene le esche prive di cotina paddle shad. Infine parliamo del recupero verticale. Per effettuare questo recupero magari ci troviamo da una barca, da un kayak, da un belly bot, quindi da una tante, o magari in postazioni in scogliere ad alta profondità che possono essere in tante occasioni anche i moli dei porti. Che cosa facciamo? Lanciamo la nostra esca artificiale, arriva in acqua e poi facciamo dei recuperi abbastanza veloci o medi a seconda anche del predatore che vogliamo insidiare e del tipo di esca artificiale che abbiamo. Lo stacchiamo dal fondo per arrivare fino alla mezz'acqua e poi lo facciamo riscendere giù. In questo modo possiamo intercettare pesci di fondale, come ad esempio le cerne, gli scorfani o altri predatori che si trovano negli spot dove andremo a pesca, ma andando sulle medie profondità possiamo intercettare anche altre tipologie di pesci predatori, come ad esempio, oltre alla spigola, le ricciole, i tonni e i pesci di branco, come ad esempio i pesci serra. Quindi con le esche artificiali possiamo ricercare una grande varietà di pesci predatori e non. Siamo giunti alla parte conclusiva di questo video, abbiamo fatto un ulteriore approfondimento sulle soft debate specifiche per l'utilizzo in mare. Ci sono già degli altri video presenti sul canale che mi invito a visualizzare. Potete utilizzare la sezione dei commenti per fare qualche domanda specifica su argomenti che magari volete far approfondire qui sul canale Planet Spin Fishing. Ricordo che sullo shop Amazon ci sono già disponibili le guide dedicate sia allo spinning in mare ma anche alle esche siliconiche. L'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e lasciate un like se il video vi sarà piaciuto. Ringrazio tutti voi nuovamente e noi ci vediamo nel prossimo video. Come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima! Ciao! 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 Ciao!